Buongiorno! 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 Sì! Buongiorno! Io vi dirò una parola in italiano Sì! Voi dovrete semplicemente duettare il video e ripetere la parola in corsivo mi raccomando perchè poi metterò il voto ma Prima parola. Che sta succedendo? Amio si dice amio. Guarda, tocca a te. Amio. Potresti migliorare. Verifica si dice verifica. Vai. Verifica. Ma guarda. Continuiamo. Ma sta bene? Ma cosa? Alunna si dice. Alunna. Alunna.